Il Milan ha battuto il Monza 3-0 nel match dell'ora di pranzo. Vittoria meritata a quella dei rossoneri, giocata anche bene, con delle belle individualità. Sono arrivati tre punti molto importanti per la classifica rossonera, soprattutto dopo il pareggio della Juve in casa del Genoa e della vittoria ieri del Napoli contro il Cagliari. Match che si è sbloccato subito con il gol di Reinders dopo una bella giocata rolandese. Lo stesso calciatore è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan oggi, con altre belle giocate, è stato uno dei migliori in campo insieme anche a Magnan. Si può dire tranquillamente che il Milan oggi ha meritato. Il secondo gol è arrivato nel finale di primo tempo con il giovane Simic, che era entrato al posto di Pobega, ennesimo infortunio muscolare, non l'unico della partita, perché nel finale di partita si è fatto male anche Okafor, che era appena rientrato dal suo infortunio. Come dicevamo prima, il gol di Simic è arrivato al 41esimo in primo tempo, al debutto assoluto in prima squadra. Poi Okafor, prima di farsi male, ha siglato il 3-0 finale su Assis di Giroud. Il gol di Simic è arrivato su Assis di Leao, quindi la coppia Giroud-Leao, che tornava a giocare insieme dopo parecchie partite, perché Giroud era stato scurificato e Leao era infortunato, oggi ha fornito due Assis per il 3-0 dei rossonieri. Milan che quindi vince, dopo la vittoria di Newcastle che non era valsa l'accesso agli ottavi di Champions, ma purtroppo ha retrocesso il Milan in Europa League e ora si prepara alla trasferta di Salerno venerdì 22 dicembre.